Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora parlando di politica perché il senatore del Partito Democratico Roberto Ruta ha raccolto l'allarme lanciato dalla DIA sulle infiltrazioni malavitose in Molise e ha annunciato un'interrogazione parlamentare urgente che verrà sottoscritta da tutti i parlamentari del Molise al di là degli steccati politici ha detto Ruta che ha chiamato a raccolta tutte le istituzioni regionali le associazioni, gli studenti per innalzare una barricata e combattere la malavita In apertura Giovanni Minicozzi È la prima volta che compare il Molise nella relazione della direzione investigativa antimafia dove a pagina 110 si attesta esplicitamente una presenza non episodica ma stanziale delle organizzazioni malavitose nella nostra regione così ha iniziato la sua conferenza stampa tenuta come sempre al caffè letterario livre di Campobasso il senatore del PD Roberto Ruta apparso teso e preoccupato per le vicende che stanno sconvolgendo la storica tranquillità del Molise Ho atteso una decina di giorni prima di parlare ha aggiunto Ruta visibilmente deluso pensando che le istituzioni locali e regionali si attivassero con proposte concrete per combattere un fenomeno pericoloso che rappresenta un cancro mortale per la democrazia e per la libertà In effetti il silenzio della politica e del governo regionale è stato davvero strano e imbarazzante rispetto alla grave situazione certificata dalla DIA e questa emittente lo ha sottolineato in più occasioni ma tant'è Ruta ha poi annunciato tre iniziative per alzare il livello di guardia una interrogazione parlamentare urgente alla Camera e al Senato che verrà sottoscritta dall'intera delegazione molisana ovvero dai senatori Ruta e Ulisse Di Giacomo e dai deputati Danilo Leva e Laura Venettelli per chiedere allo Stato il rafforzamento dei presidi territoriali delle forze dell'ordine e dell'attività investigativa contro ogni sospetto Ruta ha poi invitato tutte le istituzioni locali, comuni, province e regione a convocare consigli monotematici sul tema e ad approvare dei libere standard allo scopo di definire la comune volontà di combattere la mafia chiedendo al governo un forte impegno per difendere il territorio molisano entro fine settembre a concluso Roberto Ruta organizzeremo una manifestazione in contemporanea da tenersi in tutti i comuni con il coinvolgimento delle istituzioni senza distinzione politica, dei sindacati, delle altre associazioni e soprattutto dei giovani e degli studenti universitari per dire no alla mafia e per difendere la democrazia e la libertà del Molise senza la presenza della malavita organizzata il senatore ha taciuto invece su altri argomenti di attualità politica per non confondere, ha spiegato, il tema serio e allarmante oggetto della conferenza stampa con le amenità l'argomento è troppo serio per poter parlare di amenità di qualunque altro genere si riferiva per caso a Michela Fanelli che ha rilasciato dichiarazioni davvero strabilianti non è dato sapere quello della Fanelli è un atto di arroganza politica che si commenta da solo dovrebbe pensare a lavorare per unire e non per dividere questa la durissima replica del deputato di MDP Danilo Leva alle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico che ha definito il progetto di Ulivo 2.0 un blef l'Ulivo 2.0 è un progetto politico varato dallo stesso Leva e dal senatore Ruta che prevede la costruzione di un centro-sinistra con una guida alternativa a Frattura ce ne parla Pasquale Di Bello Clima rovente nel centro-sinistra a gettare una tanica di cherosene sugli stracci fumanti a cui si è ridotta la coalizione guidata da Paolo Di Laura Frattura ci ha pensato il segretario regionale del Partito Democratico Michela Fanelli l'Ulivo 2.0 è un blef ha sentenziato poi saltando con ardore d'altri tempi nel cerchio infuocato ha aggiunto fuori i candidati se ci sono l'Ulivo 2.0 va detto è il progetto varato dai parlamentari Roberto Ruta del PD e Danilo Leva del Movimento Democratico e Progressista che prevede la costruzione di un centro-sinistra a guida alternativa a quella di Paolo Di Laura Frattura i due Ruta e Leva dopo aver creato il mostro, mostro politico si intende hanno da tempo preso le distanze dall'ex pupillo di Forza Italia diventato governatore della regione sotto le bandiere rosse alcune delle quali drappeggiate con falce e martello un vero abominio che da Gramsci a Berlinguer ha fatto rivoltare nella tomba tutto il mondo rosso che fu ma si sa non tutte le ciambelle riescono col buco e di frattura che doveva essere un delizioso dolcetto è rimasto solo lo scherzetto di un furbacchione politico che ha deluso quasi tutti salvo i Tupamaros di Rialzati Molise e la segretaria del PD che sono oggi gli ortodossi guardiani della rivoluzione a Limoncello iniziata cinque anni fa alle affermazioni del segretario regionale del Partito Democratico è arrivata a stretto giro di posta la replica del deputato Danilo Leva le parole della Fanelli si commentano da sole ha detto il suo è un atto di arroganza dovrebbe lavorare per unire e non per dividere come purtroppo sta facendo insomma nel centro-sinistra volano gli stracci cenci che si levano in maniera ancora più furibonda e caotica quando si parla di primarie a chiederle a gran voce sono proprio quelli dell'ulivo 2.0 accusati però da Fanelli di bleffare se hanno i nomi li facciano alternative a frattura io non ne vedo ha dichiarato correndo un minuto dopo dall'oculista per un controllo non solo un atto di arroganza come dice Leva quello della Fanelli è soprattutto un atto di miopia politica se non riesce a vedere come quanto frattura sia ormai rimasto solo vuol dire che ormai le diottrie politiche del segretario PD sono a zero fratture solo lo hanno lasciato Ruta e Leva lo ha lasciato Antonio Di Pietro lo hanno lasciato in consiglio regionale Scarabeo, Petraroia, Totaro e Niro ma soprattutto lo hanno lasciato i molisani se l'ulivo 2.0 on bleff come dice Fanelli viene da chiedersi cosa sia se non una solenne pagliacciata la coalizione di centrosinistra che bivacca in regione grazie ai voti dei transfughi Monaco e Micone passati in maggioranza provenienti dall'opposizione Voltiamo pagina e vi parliamo di una storia di violenza e persecuzioni quella accaduta in un appartamento di Campobasso protagonisti una madre e un figlio tossicodipendente sentiamo Cristina Niro tossicodipendente incallito fuori controllo un caso ingestibile persino dal CERT nella sua trappola una madre che pur vedendo il figlio precipitare nel baratro della droga ha provato dapprima con tutte le sue forze ad aiutarlo poi lei stessa è finita per diventare bersaglio di quella violenza inaudita causata dall'uso di droghe dai postumi che l'utilizzo quotidiano di stupefacenti provoca sulla psiche di un essere umano vittima di continue ricadute via via più feroci e brutali è la drammatica storia di una madre di Campobasso e di suo figlio, ormai 43enne che della droga ha fatto l'obiettivo della sua vita calpestando tutto ciò che attorno a lui poteva invece aiutarlo e recuperarlo botte, maltrattamenti, violenza sono diventate il pane quotidiano per quella madre disperata che alle richieste incessanti di denaro del figlio aveva iniziato a dire no credendo così di poterlo aiutare di metterlo con le spalle al muro e di indirizzarlo verso quelle comunità che forse potrebbero tirarlo fuori dal tunnel la spirale si è stretta mesi fa ma alle botte quotidiane ed anneggiamenti causati in quel piccolo appartamento tra oggetti scaraventati, mobili distrutti e porte di velte questa madre ha sempre risposto non denunciando poi l'amore per quel figlio si è trasformato in consapevolezza necessità di ricorrere alle maniere dure perché la comprensione e l'aiuto fai da te non era utile né sufficiente come sempre quindi la prima denuncia, poi la seconda e ancora la terza fino all'intervento della polizia che raccolti gli elementi utili a ricostruire questo difficile dramma familiare ha presentato le carte al pubblico ministero la legge allora si è mossa per prassi tutelare la madre e dare una nuova possibilità a questo figlio dunque per ora dovrà stare lontano dalla sua casa familiare da sua madre e da tutte quelle sicurezze che si accaparrava con la violenza per soddisfare il bisogno di droga i servizi sociali proveranno ad indurlo a capire che a questo punto della sua vita soltanto una comunità di recupero potrebbe salvarlo diversamente ad attenderlo ci sarà il carcere un SUV scuro ha investito e ucciso un cane e ha fatto cadere a terra una ragazza di 13 anni che cercava di fermarlo l'episodio si è verificato in mattinata nella zona di Rio Vivo a Termoli i proprietari del cane e i familiari della giovane hanno diffuso un annuncio su Facebook per individuare possibili testimoni dell'accaduto e cercare di risalire all'identità dell'uomo alla guida dell'auto di grossa cilindrata l'investimento si è verificato all'altezza del civico 135 della strada principale che porta al centro cittadino non distante dagli stabilimenti balneari chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti bisogna trovare quella persona questo l'appello della zia della ragazza lanciato sui social e ora parliamo del comune di Campobasso perché domani tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale dopo il rinvio di seduta a causa della mancanza del numero legale in agenda importanti provvedimenti critica la coalizione civica sentiamo Anna Maria Di Matteo maggioranza ancora una volta assente su temi importanti così è saltata la seduta del Consiglio Comunale di Campobasso che era stata convocata per l'approvazione del documento unico di programmazione e della proposta di delibera per la definizione agevolata delle controversie tributarie un provvedimento quest'ultimo che interessa da vicino centinaia di contribuenti che potranno avere la possibilità di usufruire di una sorta di sanatoria ma la mancanza del numero legale ha determinato l'aggiornamento dei lavori a domani tra le polemiche e le critiche delle opposizioni in particolare i consiglieri della coalizione civica hanno definito un atto grave il comportamento assunto dal centro-sinistra soprattutto in vista del termine fissato per l'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata previsto per il 31 di agosto dunque un voto che arriva anche questa volta sul filo di lana si tratta di un'opportunità per il Comune hanno commentato i consiglieri Pilone, Cancellario e Fasolino perché consente di ridurre il contenzioso nella discussione delle entrate un atteggiamento incomprensibile della maggioranza che forse non ha compreso l'importanza del documento che andava approvato al di là dei noti problemi interni alla maggioranza hanno concluso i rappresentanti della coalizione civica resta l'amarezza di trovarsi di fronte ad un documento di programmazione identico a quello degli anni passati piatto e senza prospettive di crescita per la nostra città domani il banco di prova per la maggioranza del sindaco Antonio Battista e Vincenzo Benassai è il nuovo segretario comunale di Campobasso la nomina con decreto del sindaco Antonio Battista Benassai Napoletano residente a Fermo si insedierà a Palazzo San Giorgio il primo settembre andiamo ora a Venafro perché dall'adozione dell'ordinanza prefettizia le centraline ARPA non hanno più registrato sforamenti di polveri sottili e di diossido di azoto a Venafro pertanto il prefetto di Sernia Fernando Guida ha deciso di prorogare per altri sei mesi il provvedimento di chiusura al traffico per i mezzi pesanti provenienti dal Lazio ce ne parla Nicola De Santis il prefetto di Sernia Fernando Guida ha prorogato di altri sei mesi l'ordinanza di deviazione del traffico per i mezzi pesanti nel centro abitato di Venafro l'ufficialità dal palazzo di governo è giunta solo ieri alla scadenza della prima ordinanza risalente a febbraio anche se la decisione è stata assunta dal prefetto già lo scorso 24 agosto soddisfatta la gran parte della popolazione che ha salutato con sollievo la proroga prefettizia che consentirà alla città di Venafro di ridurre i livelli di inquinamento il provvedimento prevede che i tir provenienti dal Lazio e diretti nell'entroterra molisano debbano svoltare in direzione Napoli su via Colonia Giulia una volta giunti al quadrivio per poi raggiungere la Venafrana all'altezza del nucleo industriale di Pozzilli tramite la variante nessuna prescrizione invece per i mezzi pesanti provenienti dall'entroterra molisano e diretti a Roma o a Napoli la proroga ha affermato il dottor Guida è stata decisa tenendo conto dei risultati del monitoraggio effettuato dalla prefettura durante i primi sei mesi del provvedimento attraverso i rilievi effettuati dall'ARPA con le centraline di rilevazione di via Colonia Giulia e di via Campania i cui risultati hanno confermato l'efficacia dell'ordinanza prefettizia nella riduzione dei livelli di inquinamento nell'area Venafrana in effetti dall'adozione dell'ordinanza le centraline ARPA non hanno più registrato sforamenti di polveri sottili e di diossido di azoto oltre alla tutela della salute pubblica la deviazione del traffico per i mezzi pesanti rappresenta anche un'efficace forma di tutela per i pedoni su iniziativa di Confcommercio Molise si è costituito il comitato promotore per il riconoscimento del marchio IGP la Pampanella di San Martino in Pensilis un iter burocratico lungo che richiede la presentazione di certificazioni tecniche e storiche ha dichiarato Giuseppe Colucci il presidente del comitato ma necessario per valorizzare un prodotto di grande pregio e tradizione della nostra terra a Civitanova del Sannio si è svolta la settima edizione della Notte Bianca una serata all'insegna dei sapori tipici del divertimento e della fede c'era per noi Valeria Farina è stata una serata all'insegna della fede e della tradizione a Civitanova del Sannio la settima edizione della Notte Bianca ha richiamato tante persone curiosi di vivere più da vicino un percorso fatto di artigianato musica e tipicità locali volevamo fare un percorso che non doveva essere il semplice spettacolo musicale del 29 come da tradizione ma un percorso che abbracciasse un po' più ampiamente l'arte e quindi musica balli ma anche mostre artigianato tradizioni popolari la cucina della tradizione che è sempre la regina di ogni nostra manifestazione e anche la festa religiosa quindi San Felice La Notte Bianca è coincisa con la vigilia di San Felice santo verso il quale i civitanovesi nutrono una profonda fede non è il patrono proprio il patrono sarebbe San Bernardino ma con l'arrivo del corpo 230 anni fa del corpo di San Felice che viene da Roma un martire romano del terzo secolo nel popolo civitanovese è cresciuto molto questo affetto questa devozione Ospite della serata è stato lo chef Stefano Rufo vincitore del primo posto della rubrica Il Campanile della trasmissione di Rai 1 La Prova del Cuoco Rufo per l'occasione ha regalato e presenti un vero e proprio spettacolo di cucina preparando un piatto a base del tipico pomodoro civitanovese Faremo un cavatello con questo pomodoro di Civitanova delle acciughe salate della ricotta passita della rucola e delle olive nere Per te che cos'è la cucina? La cucina è un'arte è poesia è tutto è la mia vita Soddisfazione da parte del primo cittadino che ha ribadito come occasioni del genere sia un'opportunità per riscoprire quel senso identitario e di appartenenza alla comunità Sono dei momenti in cui i residenti a Civitanova ma anche i tanti civitanovesi in giro per il mondo che tornano in questo periodo condivivono momenti di convialità di festa di scambio e quindi sono importantissimi soprattutto per creare unione nella comunità civitanovese Fede, gusto e cultura locale nella notte di San Felice a Civitanova del Sagno Sono tante le problematiche legate alla terza età un regolamento regionale prevede nelle case di riposo l'applicazione di piani di assistenza individualizzata nei confronti degli anziani sentiamo Carmen Di Cristofaro il responsabile dell'asilo Seniele Argento Vivo intervistato da Gianni Bruno Carmen Di Cristofaro responsabile dell'asilo Seniele Argento Vivo fase sempre complessa e delicata quella della terza età tra l'altro poi si vive anche di più rispetto al passato sia per gli uomini che per le donne un regolamento regionale prevede l'applicazione dei piani di assistenza individualizzati di che cosa si tratta e come vengono attuati nella struttura da lei diretta il piano di assistenza individualizzato viene discusso in equip da un equip multiprofessionale dopo un attento periodo di osservazione che solitamente si aggira intorno alle tre settimane ma precedentemente c'è comunque un lavoro che l'equip svolge attraverso la conoscenza della persona delle sue abitudini delle sue volontà dei suoi desideri pertanto come primo step viene utilizzata nella struttura un'attenta raccolta biografica delle informazioni nel PAI viene inclusa anche la partecipazione dei familiari perché è giusto che ogni intervento che si pensa di agire per dare qualità all'anziano sia condiviso non solo dall'equip di lavoro ma anche dal familiare che con fiducia sia rivolto a noi tra l'altro mi diceva nell'offerta che proponete ci sono anche delle terapie di carattere non farmacologico uno degli obiettivi fondamentali è quello di permettere alle persone di condurre la vita nel miglior modo possibile è chiaro che quando alla base ci troviamo di fronte a patologie che vanno a compromettere la sfera cognitiva delle persone come l'Alzheimer per esempio come per esempio la malattia di Alzheimer alla base c'è sempre una terapia non farmacologica ma un buon lavoro di equip se riesce ad intervenire tempestivamente sul riconoscimento di quella che è la sintomatologia che si presenta prima magari di una crisi attraverso delle tecniche particolari che sono delle terapie alternative che non vanno a sostituire quella che è la terapia farmacologica ma applicate nella maniera giusta da operatori che sono formati e qualificati riescono ad affiancare quella che è la terapia tradizionale farmacologica siamo in chiusura ma c'è prima l'appello per due cani che sono stati trovati dal gruppo protezione civile in un sacco della spazzatura a Porto Cannone ora però stanno bene sono cresciuti e cercano qualcuno che possa adottarli i volontari dell'associazione hanno lanciato l'appello per prendersi cura di questi nostri amici a quattro zampe termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale ed io vi saluto ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise buonanotte